Benvenuta o benvenuto in questa meditazione guidata. Se sei qui è perché molto probabilmente hai necessità di scendere un momento da questo treno della vita in continua corsa. Magari senti il bisogno di rallentare e di rilassare il corpo oppure senti il desiderio di mettere in pausa almeno per un momento preoccupazioni, pensieri, doveri e impegni che ti legano a ciò che ancora non è al futuro, a ciò che non sai quando e come accadrà. Sappi che il solo fatto di esserti concessa, concesso questo tempo è un passo avanti nel tuo cammino di consapevolezza perché inizi a comprendere sempre di più quante energie puoi davvero recuperare anche solo attraverso brevi soste quotidiane come questa. Ti invito quindi a chiudere gli occhi restando disteso o seduto e ti invito anche a prendere consapevolezza del fatto che ora sei completamente immerso nel presente, nel suo spazio infinito, un eterno presente che secondo dopo secondo ti viene manifesto. Il passato, i ricordi dolorosi, le emozioni intense che ricordi di aver sperimentato, le tue fatiche sono ormai lontane, trascorse, finite. Lasciane quindi andare il peso che ancora grava su di te. Ancora ti arrespiro, respira profondamente e rilassa ogni muscolo, dai muscoli del volto fino a aggiungere al collo e alle spalle. Respira ed allenta il diaframma. Lascia andare ogni tensione che in te si è accumulata. Rimani sempre qui nel presente e se qualche pensiero sfugge verso il futuro sappi che con molta probabilità i scenari che ora temi e che le immagini mentali rendono già vividi, non si manifesteranno o comunque ciò che vedi non accadrà nei tempi, nei modi che ora ti creano angoscia. Non possiamo controllare ciò che ancora non c'è, quindi attendi il futuro con fiducia, conservando equilibrio, calma, consapevolezza, atteggiamenti che ti consentiranno di operare le migliori scelte per te e per le persone a cui vuoi bene. Respira, segui il ritmo naturale del tuo respiro e se i tuoi pensieri dovessero ancora comunque continuare a vagare anche in questo tempo, non giudicarti, stai facendo del tuo meglio e questo è il sentiero che attraversa ogni anima in cammino verso la calma. I nostri cinque minuti di calma e consapevolezza stanno per volgere al termine, ma non preoccuparti, ti lascerò ancora un po' in compagnia della musica e con la stessa potrai concederti fino a quando vorrai una sosta nel presente, lasciando riposare il corpo, distendere la mente, prima di ritornare ad un ritmo più celere, quello della vita, solo però quando sarai pronta o pronto. Ti lascio alla musica e ti ringrazio per avermi ascoltata, torna qui ogni volta che vorrai. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.